Come è un fattore positivo per la società italiana? Lo sviluppo di forme di economia sociale, di occupazione orientata in particolare ai servizi alla persona e alle famiglie e in questo caso, pur in questi anni di crisi, questo settore ha tenuto bene, ha mantenuto occupazione e dunque è stato un po' un'argine anche a quelle deflagrazioni che sono avvenute nel mercato del lavoro. Le due cose insieme fanno del terzo settore un vero e proprio jolly che il governo deve giocarsi per la prospettiva futura del paese. Ci sono in animo alcuni provvedimenti, in particolare un riordino complessivo della normativa di base, anche mettendo mano al codice civile, cosa che si vuole fare da molto tempo e che non si è fatto. Dall'altro lato stabilizzare il meccanismo del 5 per 1000 che si è rivelato un caso di successo tra i contribuenti italiani, il che significa che il non profita buona stampa tra i cittadini italiani. In terzo luogo quello di mettere mano alla legge sull'impresa sociale in modo da avere uno strumento più agile e più capace di attirare anche nuovi investimenti nel campo dei beni di comuni, dei beni di utilità sociale. E infine il tema del servizio civile universale come un'opportunità per i giovani sia di impegno civico che di primo inserimento verso il lavoro. Grazie a tutti.